Ci impegniamo quotidianamente a rendere Bisceglie una città sempre più accogliente e inclusiva. Sono le parole dell'ingegner Nicola Rutigliano, amministratore unico di Bisceglie a Prodi, che nei giorni scorsi, insieme all'assessore all'inclusione sociale Roberta Rigante e ai rappresentanti di diverse associazioni locali che si occupano di disabilità nel porto turistico, ha accolto il presidente della associazione no profit Bandiera Lilla, Roberto Bazzano. È la seconda consecutiva per il porto turistico di Bisceglie, unico in Italia a potersi fregiare del prestigioso riconoscimento che certifica l'accessibilità e l'inclusività, l'attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla promozione di un ambiente inclusivo per tutti. Grazie all'impegno quotidiano di Bisceglie a Prodi, infatti, il porto della città dei Dolmen si distingue per i numerosi servizi messi a disposizione delle persone con disabilità. Questo autorevole riconoscimento attesta il valore della struttura e delle associazioni che operano all'interno della nostra marina, ha commentato Rutigliano. Abbiamo avviato questo percorso con l'amministrazione comunale e insieme a diverse realtà associative con l'obiettivo di rendere il nostro porto un luogo accessibile. Siamo stati pionieri di un'iniziativa che ora anche altre città del litorale e di tutta Italia stanno seguendo, prendendo esempio da noi. Aospichiamo, conclude l'amministratore unico di Bisceglie a Prodi, di creare una rete con gli altri comuni della provincia al fine di arricchire ulteriormente l'offerta turistica della nostra regione.